Ciao, questo è il solito video che faccio sui film, anche Marei su questo film Marei può avere i suoi anni perché come film del Marei del 70, il solito film Marei americano come film è uscito nel 79, come film però è uno di sicuramente Marei di quei film magari anche se può Marei passare Marei anche gli anni, resta Marei sempre bello che gli volevo dedicare proprio il video ai guerrieri della notte che qua in Italia è uscito nel settembre del 79 come regista questo Water Wheel che Marei, anche se come è fatto Marei le scene così, Marei ho visto che Marei è uno di quei film che come altri Marei che possono passare Marei gli anni, ma resta sempre bello che noi intanto Marei è uno, magari sicuramente Marei è uno di quei film, Marei che ogni tanto Marei è bello Marei andassolo Marei a ricoperare e magari guardassolo ogni tanto Marei andassolo Marei a riguardare perché Marei come film Marei merita sempre che Marei la trama e parla più che altro che durante Marei un raduno di bande di New York il leader Marei carismatico viene assassinato dal capo dei di Ruger, che la banda di Marei viene incolpata e i loro membri braccati per tutta la notte mentre cercano Marei di tornare a Cunei Island che più che altro Marei la trama dei film e a questa qua che che come Marei, come stavo Marei dicendo Marei anche prima, che come Marei come film, come girato la parte Marei che sono Marei dentro anche Marei nella metropolitana così con questa vita Marei che possono avere Marei queste queste bande e ho visto che Marei come film è molto bello che Marei come film è stato ispirato dal stesso anonimo libro di scritto da Sol Juric che che sono riusciti a farlo Marei e qui si dice Marei che Marei è la parte Marei del film dello stesso Marei dello stesso libro però che come film che Marei da parte mia è molto bello che è uno di quei film come altri che anche può essere Marei anche vecchio che è molto fatto molto bene e che anche Marei che come si dice Marei ogni tanto Marei è bello Marei andarselo Marei anche a riguardare perché resta sempre un bel film come Marei che ci sono già in circolazione e già Marei già in giro però gli volevo tipo dedicare questo video proprio ai guerri della notte visto che Marei sul sul mio canale Marei non l'avevo Marei ancora Marei portato che visto che Marei era uno di quei film Marei bellissimi che merita e lo volevo Marei portare sul mio Marei sul sul mio canale e niente che Marei come al solito Marei vi lascio Marei e sempre sotto Marei magari i video trailer con il cast degli attori che hanno collaborato e anche proprio Marei anche la trama proprio del film a parte che Marei può essere Marei è un film Marei ho visto che è che è vietato Marei essendo Marei un po' violento così Marei può essere vietato Marei ai minore di 18 anni però come film è bello che Marei anche se dura quei 92 minuti quello e mezza 1.32 di Marei di film Marei e come ho detto Marei prima e uno sicuramente Marei è uno di quei film Marei che sicuramente Marei che merita che adesso Marei ogni tanto se qualcuno Marei ha qualche Marei abbonamento su qualche Marei piattaforma quelle che Marei si conoscono Marei di più ogni tanto lo possono Marei anche gratis se no se non vuoi magari aspettare quando proprio quella quando lo passano gratis si deve Marei pagare qualche euro per Marei andare solo a recuperare però è ancora Marei come film è ancora Marei irreperibile che ogni tanto lo fanno Marei anche in televisione o su certe Marei app piattaforme Marei quelle più conosciute che ci sono Marei in giro e niente che Marei come si dice che Marei essendo Marei una Marei un film Marei del 79 come come Marei ho detto prima Marei merita come film che anche dalla parte Marei delle recensioni che ci possono trovare Marei che si possono trovare Marei in giro proprio su questo film ho visto che Marei che sono Marei tutte Marei positive che la maggior parte Marei della gente ho visto che le era piaciuta e che anche come me Marei ogni tanto Marei se lo va Marei anche a Marei a riguardarlo perché anche se può avere Marei anche se può avere Marei i suoi anni Marei merita Marei merita Marei come film e niente che è la regia di questo Walter Hill il regista di questo film e niente quello che Marei potevo dire su questo film e magari l'ho già detto che al massimo metto qualche informazione magari sotto in descrizione e niente al massimo ci vediamo sicuramente Marei più avanti come i soliti video che porto Marei sul sul mio canale e niente per adesso Marei vi saluto e ci vediamo e ci vediamo al prossimo video ciao